Aule anguste, umide, senza riscaldamento e con un impianto elettrico fatiscente. E' questo l'intollerabile stato e le immagini che vi proponiamo sono emblematiche in cui sono costretti a fare lezione gli oltre 100 alunni del plesso scolastico di Salice, ospitati temporaneamente ma sono già due anni nei locali del centro civico di Argillà, per l'inagibilità della storica struttura, oggi in condizioni di vera e propria emergenza. In attesa della ristrutturazione di tale edificio, i giovani allievi del plesso, come dicevamo, si ritrovano in una struttura non idonea ad ospitare attività scolastiche, un edificio di recente costruzione ma, incredibilmente, già condizionato da diverse problematiche. A seguito di una sospensione forzata dalle attività didattiche avviata già da qualche giorno, questa mattina i genitori hanno detto basta, chiedendo interventi urgenti sulla struttura provvisoria. Nel corso della protesta, alla quale ha anche preso parte il dirigente scolastico della Lombardo Radice di Catona Albino Barresi, sono poi intervenuti gli assessori comunali Vincenzo Nociti e Pasquale Morisani, i quali hanno assunto precisi impegni per la scuola di Salice. La problematica della scuola di Salice, però, è solo l'emblema di una situazione strutturale delle scuole di Reggio Calabria alquanto deficitaria.